Mi chiamo De Fugacino, io mi chiamo Barnieri Pierpaolo, sono il fondatore dell'associazione Il Volo delle Gabbianelle Orlus. Sono l'operatore dell'accoglienza all'interno del progetto che si chiama SPRAR, ovvero Sistema di Protezione per le Persone in Asilo Politico e i Rifugiati. Il nostro fiore d'occhiello sono le nostre strutture d'accoglienza per minori, abbiamo tre case famiglie, una struttura d'accoglienza per ragazze da accompagnare a progetti per l'autonomia. Senz'altro si può sapere di più, si può pubblicizzare meglio, perché più si conosce, tanto meglio si capisce esattamente quello che facciamo e come funzioniamo. E poi si può anche proporre per collaborare insieme eventualmente a progetti. Abbiamo avuto una risposta di volontari per l'accoglienza integrata degli immigrati dopo che questi potenziali volontari hanno visto il video che è stato postato da Corriere.it sul salvamento o salvataggio degli immigrati sulle coste di Lampedusa, perché un'immagine vale più di mille parole. Il progetto numero 32, il truppo reportage sociali, è nato con questo scopo, diffondere una cultura del video e utilizzare gli strumenti del documentario e del reportage per portare a conoscenza del grande pubblico le realtà operanti nel sociale. Se volete sostenerlo, potete votare sul sito di Social Lab Genova e selezionare dal minuto a tendina progetto numero 32, truppo reportage sociali. Per votare è necessario registrarsi con nome e cognome mail e inserire un codice di sicurezza. Grazie a tutti.